La viabilità del Cilento continua a creare disagi, malumori e polemiche. Anche il primo cittadino di Vallo della Lucania, Tony Aloia, ha scritto una missiva a regione e provincia. Le condizioni di disagio e pericolo che le nostre popolazioni vivono quotidianamente, a causa della rete viaria obsolete ed oggetto oramai solo di sporadice e rari interventi di manutenzione, vista la scarsità delle risorse economiche, scrive Aloia, impongono una decisa e rapida soluzione. Situazione che è infatti peggiorata nelle ultime settimane a causa della lunga ondata di maltempo che ha messo purtroppo ancora in luce il precario equilibrio idrogeologico del territorio più a sud di Salerno. La situazione è divenuta insostenibile. Le strade di collegamento fra i vari borghi sono diventate ormai fatiscenti, in alcuni casi inesistenti, per le numerose frane che le hanno investite, isolando gravemente molte comunità. Strade che sono diventate una groviera di buche, crepe e avvallamenti che non soddisfano alcun criterio di sicurezza per la circolazione stradale. Diverse sono le situazioni critiche. A Pisciotta, la ex strada regionale 447, che è chiusa in località Rizzico per una vecchia frana che isola a nord questo importante borgo cilentano e minaccia seriamente l'importante strada ferrata Salerno-Reggio Calabria, che decorre immediatamente a valle. Negli ultimi mesi la situazione è diventata ancora più triste per le numerose gravi frane che hanno colpito la cilentana, variante alla statale 18. Tali fenomeni idrogeologici hanno interessato in più punti l'asse viario. Tra lo svincolo di Agropoli Sud e Prignano-Cilento, nell'attratto tra Vallo della Lucania e Ceraso e nel tratto tra Futani e Foria di Centola. Particolare preoccupazione ed esta però è l'attratto tra Prignano-Agropoli, a causa di un'enorme voragine che si è aperta sul manto stradale da ormai diversi mesi. La situazione è divenuta ormai insostenibile, conclude Aloia, impone interventi immediati ed urgenza al fine di ripristinare decentemente questo importante e vitale asseo viario, percorso ogni giorno da migliaia di persone esposte a continui pericoli. Chiedo pertanto quali azioni la regione e la provincia hanno messo in essere per risolvere nel più breve tempo possibile questo importantissimo problema per le comunità cilentane.